...festeggiato le nozze d'oro della società Alfredo Binda con il ciclismo. Era questa infatti la cinquantesima edizione della Trevalli Varesine. Al via da Varese presenti i migliori italiani, con una qualificatissima rappresentanza straniera capeggiata da Merckx. Ad andatura sostenutissima la prima parte della corsa con quattro corridori in fuga, vale dire Eric Petterson, Fusari Imperatore, Crepaldi e Caversazzi, che ottengono 3 minuti e 30 secondi di vantaggio. Ripresi i quattro nei pressi del Brinzio, nasceva ad una trentina di chilometri dal termine la fuga decisiva. Autori Gianni Motta e Deddy Merckx. Il campione del Belgio scatava sulla salita di Sant'Ambrogio. Si produceva in numerosi allunghi. Motta era l'unico a resistere nella scia dello scatenato Merckx e dalla cassinetta di Biandronno, dove la corsa si concludeva al termine di 223 chilometri di gara e Motta a precedere nettamente allo sprint Merckx. Terzo Gimondi ad un primo e 10 secondi. Quindi, ad oltre 5 minuti, Dancelli, Simonetti, Moser, Passuello e Laghi. Media 40 e 239. Dei 116 corridori partiti, ne sono giunti al traguardo soltanto 26.